ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video io sono stan vi dover venuto qui al canale siamo qui su farmissimo del 2019 nella mappa di haidi come potete ben vedere ci troviamo in farm presso la stalla perché voglio sistemare sto aggino qua perché ogni volta che io voglio passare da ste parti purtroppo trovo sto che alla fine basterebbe metterlo anche qua alla fine giusto lo mettiamo così no lasciamo dritto dritto va benissimo ok yes sono sicurissimo perfetto almeno non è più in linea ragazzi io vi do il benvenuto qui al canale riprendiamo da questo gameplay perché purtroppo adesso vi spiego un attimo perché non sono riuscito a spiegarlo nel video di ieri perché quel video di ieri doveva uscire oggi di martedì come sempre però purtroppo io ho avuto un imprevisto nella registrazione di cattle and crops il problema mi è stato dato dal file non sono più riuscito a portarlo in editing perché si era corrotto non so neanche il motivo per cui sono dovuto ripiegare sul video di martedì per cui oggi che è martedì faccio uscire di nuovo questo tanto non è che mi cambia molto a sto punto preferisco mantenere la scaletta corretta poi verificherò su cattle and crops perché lì ho fatto delle belle cosette e purtroppo le ho perse vedrò un attimo come risolverla per farvi per tenervi aggiornati detto ciò noi cominciamo le lavorazioni perché come vi ho detto il gameplay di ieri abbiamo lavorato i terreni per prepararli per la semina in primavera e se non sbaglio si avevo preso anche il terreno 2 che non si capisce perché qua ci sia un trio ok è normale perché si aveva stavo dicendo che avevamo iniziato le lavorazioni per la preparazione della semina e adesso dobbiamo solo aspettare che arrivi la primavera e prepararci all'inverno le pecore poi le pecorelle mi avete scritto che non fanno lana d'inverno di fatti non mi ricordavo questa roba qua me la sono proprio dimenticata l'unica altra cosa che non capisco perché il cibo non diminuisca prossimamente cercheremo di capire anche ste cosette che facciamo oggi purtroppo devo dirvi la verità che non lo so forse voi dal titolo lo avete già scoperto ma io in questo momento non saprei cosa fare è metà autunno e l'unica cosa che possiamo fare è andare avanti e andare avanti con le col tempo vedere qua se necessita di qualcos'altro abbiamo detto che il 24 è seminato a frumento soldi non ne abbiamo perché forse ok non abbiamo neanche debito vendere qualcosa non credo ci sono i semi di soia da vendere quando è il periodo di vendita di semi di soia eccoli qua in in estate niente allora dobbiamo andare solo avanti perché non ho altre soluzioni io andiamo avanti vediamo che succede col tempo qua tengo d'occhio l'erba perché tanto in giro non abbiamo altri altre problematiche le animali a parte l'acqua ma non me lo dirà ok siamo a fine autunno andiamo avanti andiamo avanti finché non ci saranno pecole qua un giorno per le pecore andiamo dalle pecore a dare acqua mettiamo acqua alle pecorelle visita ok acqua sia diamo una pulitina già che ci siamo qua guarda fatalità secondo me questa scusa della season non serve neanche pulire vabbè ok siamo a fine autunno offerta elevata che vogliono da me vabbè cippato non ce n'è qua l'erba sull'81 è pressoché morta non dà segni di vita pulizia qua non serve non si capisce perché si siano sti bug ancora che rompono allora qui invece mi sa che andiamo a fertilizzare il terreno perché tanto questo terreno necessita però vado un po più avanti vediamo se esce un po il sole esatto ok eccoci qua in teoria non dovrei far danno con queste ruotine qua esatto ottimo sì certo che vabbè ormai fertilizzare lasciamo perdere l'operaio e qua mi finisco un attimo sta fertilizzazione qua che allora siamo in inverno guardate gli alberi non hanno una foglia è bellissima sta situazione molto carina allora vediamo di partire da qua ok sistemato l'operaio per la fertilizzazione noi siamo a posto mi tengo sempre d'occhio il mio campo 81 come sempre ragazzi io non ve l'ho ancora detto ma ormai spero sia un dato di fatto vi invito come sempre a iscrivervi al canale se non avete ancora fatto attivate cambiamento di notifiche per non perdervi nessun gameplay lasciate come sempre un bel pollicione in su che andiamo avanti qui dei milioni like commentate condividete il video da destra e manca inoltre tutto giù in descrizione trovate un link che vi permette di supportare il canale con qualche donazione trovate i link di disco e telegram seguitemi anche lì qua abbiamo sempre il solito problema no comunque resterà sempre fuori sto pezzettino qua l'uno e il due sono a posto sto controllando anche le emissioni per vedere se sul campo 4 c'era da raccogliere avena ma stiamo scherzando sul campo 4 c'è l'avena da raccogliere in inverno stagione da fino all'1 e 2 però 1 e 2 non sarebbe male però farci sta raccolta qua di avena è anche un bel po è anche fertilizzata ma sicuro che me la faccio sta raccolta qua ora ce n'è un'altra orzo le prendiamo ste missioni qua si mi faccio prestare anche gli oggetti così tanto per fare insomma per fare qualcosa visto che io non vorrei dirlo ma anche ste missioni qua ad erba andrebbero andrebbero bene mi sa che per assimulare soldoni ci facciamo ste missioni qua a sto punto allora aspetta un attimo che finiamo sul nostro terreno e poi facciamo missioni anna come piovesse però volevo andare verificare una cosa perché qua non ce n'è erba ste missioni qua non vorrei restare un po fregattino un po fregato torniamo in farm che il campo è sistemato no invece ce n'è erba tipo questo il 63 ha erba adesso devo vado a vedermi sti terreni come sono messi in modo da non restare un po inchiappetteto poi ci facciamo ste belle missioni qua in giro per le per la nostra mappa sono proprio missioni di inizio inverno ma perché sono andato dentro dentro per di qua non ho capito vabbè dentro da una parte fuori dall'altra capiterò sulla trebbia giusto eccole qua ammazza oa grassa che razza di parco macchine che ci hanno dato allora questa lama a 6 è indifferente metterla da una parte o dall'altra secondo me è il 4 vabbè andiamo al 4 e allora 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 eccomi qua il 4 gli spieghiamo la trebbia e la mettiamo come sono troppo bagnate e allora che missione è ma scusami se le colture sono troppo bagnate io cosa devo farci è quello il punto non capisco se la coltura è troppo bagnata no questa la lasciamo qui intanto poi questo era il suo trattore con il rimorchio e lo portiamo smistiamo le cose perché mi sembrava che la situazione migliorasse di sera però non voglio farle di notte io ste missioni qua parcheggiamo intanto i mezzi che poi un attimo a sistemare ok eccoci qua al 5 che però continua a darmi problemi la trebbia l'ho portata in fondo là e allora poi un'altra cosa allora il campo 57 oh c'è il fosso è questo per cui erba è pronto per la raccolta allora il campo 57 possiamo prenderlo presto oggetti a questo punto in teoria anche le altre dovrebbero essere a posto questo tipo beh allora aspetta che intanto ecco qua tanto un po di mezzi li portiamo in giro in allora ma esatto farmi fare una cosa tattica sì giusto questo va così e questo va così e poi il suo è questo andiamo al campo allora eccomi qua ho dovuto fare un po di manovre però ci siamo allora fammi dare un'occhiata a quello dietro però modalità di lavoro sinistra no allora ora che ci sono in teoria certo che ci ci vuole così tanto tempo teoria dovrei esserci esatto allora aspettate che qua facciamo le cose come si deve purtroppo sta arrivando la sera perché non avevo visto che per sbaglio ho lasciato il tempo diciamo veloce purtroppo in più non so neppure finché punto posso spingermi qua con le e andiamo dritti intanto cosa cambia niente allora mi faccio un po ste lavorazioni qua e poi al momento non metto l'operaio perché sennò guarda che se vado avanti così tocca farle tutte me tocca naturalmente cerchiamo di creare un'andana unica per non perdere troppo tempo insomma più o meno sperando che poi verso sera la situazione per quanto riguarda l'umidità delle culture migliori mi darebbe un po fastidio sta storia qua che si per fortuna che sto controvedendo che la falciatrice si solleva ma comunque taglia senza nessun problema per cui mi sembra che funzioni insomma e se resta fuori qualcosa amen naturalmente adesso sta uscendo una mega andana però almeno è l'unico modo per far presto guarda che esagerazione proprio qua dubito di riuscire a prendere il tutto vero vabbè anche se resterà qualcosa sul terreno non importa ok ok e anche qua siamo a posto ormai non credo di avere difficoltà sarebbe stato più carino un trattore un po più potente vediamo se riesco a risolverla anche lì così vabbè tanto non è che importi allora però una cosa andiamo al negozio allora naturalmente vorrei togliere un po di cosette da qua queste qua le lasciamo qua torno al negozio un'altra volta ok diciamo che questo è l'equipaggiamento del 57 se io adesso voglio prendermi allora voglio provare con una missione piccola nel senso perché questa voglio capire questa è una è la 73 ma tipo questa comunque porta a buy away ma me lo segna come sempre io voglio accetta contratto il 70 se io il 70 vado con la mia attrezzatura allora in qualche modo sono arrivato però si me lo fa tagliare però non so se è questo il 70 perché se io vado qui il 70 allora funziona funziona tutto per cui è giusto così devo solo a sto punto accettare il contratto mi lascia lavorare sui terreni al momento teniamo questi che è un bel problema allora facciamo tutte le cose in serie li taglio, li ranghino e poi li lavoro allora cominciamo anche qui sui 70 a lavorarcelo qua si sarà una bella sfida perché è un po particolare sto terreno qua ma intanto facciamo il giro giro tondo e poi perché non so se il mio trattore è più potente di questo oppure no sto facendo questo lavorazioni qua di contratto perché vorrei che saltasse fuori anche qualcosa anche per me come insilato tutto lì ok sì comunque questo sistema qua funziona alla grande della mega andana centrale per cui chi si lamenta è perduto vabbè qua siamo a posto fammi capire dove devo andare il 15 l'ho fatto e anche il 70 questo è il 70 devo andare sul 73 a trovarli sti terreni perché qua ok eccomi qua al 73 e cominciamo purtroppo devo sempre trovarmi un punto di partenza ideale sempre giro tondo come sempre all'inizio qua si che è un bel problema però eh tanto l'unico problema mi sembra è questo per cui poi a un certo punto si andrà anche dritti lì per cui ok qua dovremmo esserci in teoria esatto perfetto aspetta mi sa che qua fare una andana unica sarà un problema mi conviene dividerlo in due questo terreno qua perché sembra già bella grossetta eh infatti non è che prenda molto bene strano però perché ne avevo fatte di più era venuta più grossa l'altra eh adesso curioso poi con l'imballatrice come faremo comunque vabbè diciamo che ho fatto un piccolo l'espediente perché era troppo tardi diciamo che ho usato un po' la macchina del tempo sono andato indietro con l'orologio perché sennò è veramente sarebbe stato da pazzi continuare ok allora vediamo che succederà qua vabbè l'abbiamo allargata almeno tagliamo tutto qua abbiamo finito ragazzi e anche discretamente devo dire a posto lì va benissimo così ok allora andiamo un attimo a capire che contratto devo farmi metitura metitura c'è il 69 da finì da fare ancora ok vediamo se siamo giusti sì perfetto ok cominciamo anche qui sul terreno 69 a tagliare ok allora qua sta quasi per finire sto quasi non dovrebbe mancarci molto diciamo che perché erano lontani i tempi da cui facevo andane così importanti non so neanche se sta affalciando sotto sì comunque si sta affalciando perfetto perché non sta raccogliendo tutto comunque vabbè quello è un problema secondario vediamo se riusciamo a sistemare anche qua perfetto allora purtroppo però una cosa è certa che ci ho messo più del previsto e non riesco a finire in tempo tutte le lavorazioni allora ho pensato questo che forse se riesco vi divido il video tutto il gameplay in due in due parti per cui poi volevo farmi anche tutti gli altri terreni per cui ce ne saranno ancora un bel po' qua siamo a posto mi sembra io per il momento mi fermo qui come sempre vi ricordo e vi invito se non avete ancora fatto di iscrivervi al canale mi raccomando questa forse è meglio dividerla in due vabbè poi vedremo un attimo adesso vado a vedermi che altri terreni fare io per il momento mi fermo qui come sempre vi ricordo e vi invito se non avete ancora fatto iscrivetevi al canale e vi ringrazio lasciate come sempre un bel pollice nessun canale quindi un milione like attivate i campi dei notifichi e non perdetevi nessun gameplay che pubblico condividete il video a destra e a manca mi raccomando inoltre tutto giù in descrizione trovate un link che vi permette di supportare il canale qualche più donazione trovate i link di disco e telegram seguitemi anche lì noi ci vediamo al prossimo gameplay ciao a tutti grazie per la mia compagnia e alla prossima ciao ciao